Sì, è vero! Sì, sì, sì! Sì, sì! Grazie! Ciao, bellica! E' un po' buon! E' un po' buon! Stanno bene, a tutti, tutti, tutti! Non, mi sono! Arancho! Oh, tu, 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 mi sono? Oh... Sì, 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 sì. Ma chance, ta la direttore! Non! Ma a me racconta! Il pò di più! Ma bo... Non ne racconta di me raccontare! No! Ma la letta! Tres, ma due... Vei! Ma non pò come... Ha ha ha... Oh! Sì soft ma! MK in tempo o K ah ho ho ah oh mmm ah 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 non è un amico che? che non è? io pono molto sono andato io sono andato sono andato sono andato dai 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 tu ti sa dai 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 No, no, no. No, 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 noasy ma, dojdiche. non voglio riman non voglio riman non voglio rimanare io ho detto che c'è un bolo romano i bambini si è roma non mi piace ma non voglio fare le c'è un bambino le c'è un bambino lui è resa ti credo guarda 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 guarda